Ragazzi è successo un incidente a Chiara Stavamo cominciando a fare un video E Chiara si è fatta veramente, veramente, veramente male Difatti come potete notare abbiamo già disinfettato, fatto un sacco di cose Perché era tutto pronto per cominciare il video E così Adesso vi faremo vedere tra poco appena Chiara si riprenderà e smetterà di piangere Vi faremo vedere cosa si è fatta e soprattutto in che punto Chiara Vuoi farglielo già vedere? Ecco copri perché ragazzi dietro è veramente una cosa sconvolgente Mamma mi fa male E lo so amore Allora vi spiego tutto fin dall'inizio Il primo taglietto è stato qua Allora ha cominciato Chiara a farsi male durante questa settimana Fammi vedere bene Ok questo qua sul tallone Circa una settimana fa Chiara si è fatta il primo taglio sul piede Poi il secondo taglio si è fatto questo E poi si è fatta oggi prima di iniziare un video il taglio più grosso che Chiara si era mai fatto E credetemi ragazzi che stiamo pensando se portarla in ospedale Ma non vi mostriamo Ma mi sta goccolando un botto Quindi tienilo chiuso adesso E mamma Giulia vi farà vedere esattamente Chiara dove si è fatta male Perché stavamo cominciando a fare un video in Piscina Perché vi volevamo mostrare la piscina Però ora che vi sto facendo vedere la mamma il punto Mi sono fatta male qua qua e qua Nello stesso punto Allora ragazzi sto portando tutto lo corrente a bordo piscina Perché come vi abbiamo annunciato Chiara si è fatta veramente male Dato che questo video doveva far vedere la piscina Ovviamente abbiamo deciso di farvi vedere comunque la piscina E soprattutto Chiara dove si è fatta male Perché stavamo preparando tutto quanto per farvi vedere Il caso ha voluto che Chiara si facesse male O va tutti i giorni sopra le tavole da legno della piscina E caso ha voluto che si facesse male Quindi ora andiamo a medicare insieme E soprattutto vi faccio vedere il posto dove Chiara si è fatta male Mamma io mi sono guardata E mamma mia E' scappato il cotone e lascialo andare perché sicuramente ora sarà sporco Allora ragazzi intanto vi stavamo preparando come vi dicevo tutto quanto L'esdraio, abbiamo aperto la piscina e tutto quanto Ma è successo questo Adesso ve lo mostriamo bene 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 Guardate un po' Difatti adesso non sappiamo che cosa fare Perché si è talmente alzata la pelle che non sappiamo se ci vogliono dei punti Quindi ora vedremo nelle prossime ore e capiremo che cosa fare Chiara la soglia del dolore è tua da 1 a 10 di questa cosa qui Quanto è? Aia Ti fa così tanto male? Sì Diego voglio quello Allora ragazzi nel mentre che Chiara prova a distrarsi un po' con il pongo Cos'è? Una specie di pongo o stabbia cinetica? Che cos'è amore? Vi mostro finalmente la piscina e il punto dove Chiara si è fatta male Ok Chiara lo posso mostrare? Prima il punto del dolore l'ho fatta male Sì Allora ragazzi le vedete queste tavole? Ovviamente ci sono all'interno delle viti Le vedete? E abbiamo notato che in una tavola c'era una vite che sporgeva Non ce ne siamo accorti E Chiara si è in pratica agganciata il piedino Difatti abbiamo dovuto chiamare il tecnico che adesso verrà a sistemarla tutta quanta Perché ci sono delle viti E così almeno eviterà poi in futuro di farsi male sia lei che Diego Vedete? È tutto fatto di viti Allora ragazzi però nella disgrazia come vi avevamo detto Volevamo farvi vedere la fantastica piscina aperta Il che papà guardate cosa sta facendo Ecco a voi papà Antonio Che sta cercando di rendere più pulita Più pulita possibile la piscina Ma purtroppo oggi nessuno di noi si potrà tuffare Sapete perché? Perché Chiara si è fatta male Quindi per qualche giorno cercheremo di non fargli toccare con i piedini l'acqua Anche se sarà molto 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 dura Vero papà Antonio? Sì Ecco a voi papà Antonio che sta pulendo Difatti col vento cadono un sacco di cose Guardate ragazzi che piscina Ma vi rendete conto che possiamo fare un sacco di sfide e di challenge? Eh papà Antonio sei pronto? Lancerò mamma Giulia No no aspetta aspetta che mi avvicino per sentire la cavolata che stai dicendo Ti lancerò in piscina Se ti piacerebbe Aspetta che la pulisco e poi ti lancio Se ti piacerebbe Anzi Se per caso volete che papà Antonio mi butti in piscina Questo video deve arrivare a 50.000 like Ah Arriva arriva Quindi cominciate a spolliciare E ragazzi dobbiamo andare da Chiara Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo il nostro poster autografato Nel mentre che andiamo da Chiara voi spolliciate il più possibile E soprattutto se non l'aveste ancora fatto iscriviti al nostro canale E attiva la campanella Chiara amore allora come procede? Ti pulsa ancora il piedino cucciola? Sì mamma Allora facciamo una cosa proviamo a disinfettarlo bene No babà Sul divano? Babà no Mi brucia me lo sono già infettato prima Sì ma non è che quando ti agiti parlando più veloce le cose ti fanno meno male Lo so Ragazzi effettivamente il dolore di Chiara è palpabile Cioè si capisce perché veramente la ferita è brutta brutta Ora quando andremo dentro la disinfetteremo bene 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 di nuovo Metteremo il cerotto E vedremo bene nei dettagli E la zoomiamo bene all'interno che non c'è troppo sole Almeno riusciamo a vederla bene per capire se effettivamente la pelle si staccherà da solo Dovrò farla rimuovere da qualcuno Quindi da qualche dottore specialista Nel mentre volevo anche farvi vedere il restante della piscina Allora tutto il contorno è fatto di legno come potete notare Poi abbiamo una fantastica scaletta Eccola qua Difatti ha tre gradini La piscina dovrebbe essere un metro e venti barra un metro e trenta Quindi al limite per avere un bagnino all'interno della casa Poi quel robottino che vedete laggiù E il nostro pulitore personale della piscina Poi tutte le sere la piscina potrà essere chiusa con questo telo termico Perché dovete sapere che faremo un sacco di sfide notturne anche Perché la piscina è riscaldabile Quindi si può anche fare calda durante la notte Perché di giorno non ce n'è bisogno Poi ovviamente ci sono tutti l'attrezzatura per rendere la piscina pulita Abbiamo già comprato delle sdraio che ovviamente col vento Più le sistemiamo e più si scombinano Guardate un po' Ok E poi abbiamo Chiara là Allora Chiara che ne dici? Andiamo dentro a vedere bene la tua ferita? Allora andiamo dentro vai Chica E ovviamente ragazzi abbiamo anche la super doccia personale Perché prima di entrare in casa dovremo essere super lavati Vero cucciola? Col tallone brava piano che non ti fai male di nuovo Ok Mannaggia Chiara ci voleva proprio questa oggi Fammelo un po' vedere la ferita Mamma non ce la faccio Ah vederlo amore è impressionante Hai perfettamente ragione Ma tu sei super forte E ce la farai tantissimo Vuoi che ti porti in braccio? No Ma lo sapevo che tu sei una campionessa Dammi il telefono prima che ti cada Bravissima Dammi la manina Ok Manina di T Il di T Non sei scusami Campionessa Chiara Campionessa Chiara Ah e ovviamente abbiamo messo anche Il tavolo da ping pong Ecco non ce l'ha fatta Chiara No che cosa amore Ti fa male? Non ce la fai? Vabbè ragazzi scusate Stacco l'attimo la videocamera Ragazzi la devo portare in braccio Perché ha veramente male Quindi entriamo in casa E riaccendo la telecamera Allora ragazzi siamo venuti sul divano E volevo farvi capire bene Il dramma della situazione A voi se lo tocchi mamma Non lo tocco Stai ferma lì amore Che io non sto toccando nulla Ferma però Che così lo facciamo vedere ai nostri amici Guardate ragazzi Mamma mia Chiara Sai che cosa succede ogni volta? Perché tu non stai mai 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 ferma E devi sempre ballare Vabbè adesso disinfettiamo E Cosa? No disinfettare no Mamma Mi sono già disinfettata prima Se mai mi prendi un po' di cotone Come mai le mani gialle? Non toccare il divano nuovo con quelle manacce Ti vado a prendere immediatamente Le salviette Per le mani Sono un pochino preoccupata Perché come notate il taglio è veramente veramente grande E non so che cosa fare Ora sentirò il medico Gli manderò la foto E vedo lui che cosa mi consiglia di fare Non so se alla fine Mi converrà a portare in ospedale A vedere se riescono a mettergli qualche punto Perché il sangue praticamente ha smesso Di sanguinare Però non so se quella pellicina Dovrà essere rimosso o no Vabbè Nel mentre prendiamo le salviette E gliele portiamo Ecco qua le salviettine Chiara Sto arrivando con le salviettine Ti serve altro? Sì Che cosa? Cotone? Ah e così lo disinfetti? No E allora cosa ti serve il cotone? Beh per tamponarlo E ma senza disinfettante dentro? No mamma Poco poco No mamma Mi brucia Vabbè E ragazzi Nel mentre Non ci stiamo vedendo Il video dei cuginetti Che è uscito ieri Quindi Se non l'avessi ancora visto Vai assolutissimamente A vederlo Quindi clicca Qui Ragazzi La mamma Sta arrivando Con il ghiaccio Sto arrivando Con la bottiglia ghiacciata A vedere Quella lì Quella lì C'è il ghiaccio all'interno Sì sì C'è proprio il ghiaccio L'abbiamo lasciata nel freezer E si è congelata Adesso Chiara sta cercando Di mettere un po' di ghiaccio A vedere se riesce Ad andare via Le palpitazioni Che ha Mamma mia Chiara Odimi amore Fa male vero? Cosa facciamo? Cosa vuoi che faccio? Dimmi che cosa vuoi che faccio? Non lo so mamma Io non ce la faccio Aspettiamo un'oretta Vuoi che ti do un po' di Qualcosa per fartelo passare? No? Non te la toccare amore Che è peggio E peggio E ovviamente guardate Diego Non so che cosa sta facendo Diego Di un po' che ti sei spaventato anche tu Dillo No? Dillo che ti sei anche tu spaventato Sdenta dente Te e che ti manca il dentino? Mamma Non mi si ferma più Mi pulsa e mi fa male E mi esce troppo sangue mamma Cosa vuoi fare allora? Cosa devo fare io? Dimmi cosa devo fare Non lo so Mettiamo un po' di acqua disinfettante Nooo Allora no 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 Mi hai portato tutto il nonno Ma perché? Ma lo metto Ma perché c'hai male? Sì mamma Guarda che di infettante con tutto il sangue Mi fa male No forse almeno A parte che sembra finto Scusami lo so Ti sei fatta male veramente E ti fa veramente male Sì con tutto il sangue colato Mamma 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 Fai qualcosa Mamma Fai qualcosa Non mi chiedere cosa Cosa vuoi fare Mamma Fai qualcosa Perché ti fa così male? Mannaggia Mannaggia cosa? Vabbè io intanto ci penso E vedo un attimo cosa possiamo fare Sì papà Papà abbiamo bisogno di Il dottore papà Antonio Gli fa veramente male Cosa possiamo fare? Cosa ci consigli? Gli ho detto a Chiara Se voleva una bacinella Con dell'acqua disinfettante Mi ha detto di no Cosa consigli tu? Di tagliarlo Lo tagliamo qua in mezzo Tagliamo la caviglia Dai ci stai Non c'è ancora più sangue E no passa però il dolore Passa più velocemente Chi non l'avesse ancora visto Abbiamo il nostro nuovo divano E che Chiara non riesce più a camminare Salio e olio Benissimo Lei ora si metterà a leggere un pochettino Nel mentre ti lascio rilassare E tra poco ti verrò a controllare No 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 mamma Devo stare qui? Io voglio fare qualcosa Dimmi che cosa vuoi fare? Vuoi fare il giro Che giro? Stop E Allora Un nome Un nome con la E La tua amica? Elena Città? Empoli Animale Elefante Oggetto Elastico Sono troppo un genio Mamma Ora tocca a me Bella Ok allora tieni qua la telecamera Abcdfg T Mi devi dire un nome di persona con la T Un tuo compagno di classe Tommaso Tommaso brava Vabbè facciamo così Io vado a fare due cose di là Torno No io voglio fare una passeggiata Vuoi fare una passeggiata? E dai vieni Andiamo Cucciola Stai arrivando? Ma forse non è meglio che invece di farti una passeggiata ti sdrai e non ti muovi più? No Ma perché devi fare la passeggiata che c'è il piede tutto rotto? Si può sapere perché? Devi muoverti Perché sei una testona Non puoi sdraiarti? Sederti? Stare tranquilla? Chiagheriamo Facciamo obbligo a verità? Mentre passeggiamo? Obbligo a verità Dai Tocca a me? Tocca a te Obbligo a verità? Obbligo Ti obbligo a stare sdraiata? No Sul prato? Per dieci secondi Quindi In mezzo alle margherite Tu devi stare sdraiata No lì ci sono tante margherite Va bene Allora ce la fai arrivare fino là? Eh? Ce la fai? Sì ce la faccio sempre Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ora secondo me Ora vediamo Obbligo O verità? Verità E' vero che mi sono fatta male? Sul serio? Assolutamente Sì E soprattutto ha perso un sacco di sangue Io dico sempre Le verità Obbligo O verità Chiara? Verità Aia Allora Una verità Ti piace più la scuola qua a Roma O quella in Liguria? Qua a Roma Qua a Roma E allora Dato che ti sei già fatta male Più di una volta questa settimana Su questa benedetta piscina Finchè non la sistemano Tu Non ci dovrai più salire E allora facciamo il giro Bravissima Ora tu con me hai fatto lotto Ora vediamo cosa scegli Obbligo Verità Verità Voglio che Fai una verità Su pallino Allena Mamma E' vero che pallino Pallino ha 12 anni? Esattamente i 12 Che li compierà Il 6 dicembre Vabbè mamma Io mi sono Tancata E mi si rompe Brava Siediti che intanto sbirciamo Che cosa fa Bava Antonio Sta cercando di far Partire Il robot Della piscina Vabbè ragazzi Io direi Che per il dolore Di oggi Di Chiara Il video Termina qua Mamma Fai qualcosa Cosa devo fare? Fai qualcosa Per non avere più male Fammi un po' vedere Ancora bene O mi fai fare O fai qualcosa O lo fai 3 2 1 Non hai più male Mamma dai Non si scherza Tutte cose Ma non sto scherzando Amore Tu dimmi che cosa Devo fare E io lo faccio No Non lo so Ci penso E poi te lo faccio sapere Vabbè ragazzi Noi vi lasciamo Dai pianti di Chiara Perché oggi Si è fatta veramente male Dal piedino E ci vediamo Nel video di domani Che scoprirete Che cosa è successo Al piedino di 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 Chiara Dovete sapere Che Chiara Quando ha dolore Fa la scorbutica Ciao a tutti Marchette Marchettine E benvenuti In questo nuovo Folle Video Sono le 10 Di sera E da due giorni Che muove Il dentino Guardate Il canino E oggi Volevo provare Staccarlo Ok Insieme a voi Poi mamma Se non ce la faccio io Provo Certo Ok Dai Vai Va bene Vai Veramente Mamma Mamma No Però sentite il rumore Ah Madonna Ti Ti immagini se lo ingoia No Una volta a scuola L'ho ingogliato Vabbè Intanto fammelo vedere Come si muove Cioè Si è quasi staccato Prima ho mangiato Il biscotto Ha fatto crack Hai già quello sotto Che sta spingendo Laterale Amore Sì E infatti Quando fate Vedi Ti scontrano Ova con la lingua Fai Fai Lottati con la lingua Sì ma tu cosa hai mangiato Cosa Sei tutto sporco di cioccolato Vabbè Ti immagini che Inquadri lui Invece che Inquadrarmi me E ti stacchi Sono rilasciata Qui mamma Prova tu Prova tu Per favore Deve sentire No no Mamma Ma perché sto video Fa venire l'ansia Ma la vorrei vedere Con l'altra mano Perché la destra si Dai Proviamo Sì vieni qua Vai Io voglio provare Sì Va bene Proviamo tutti Non si riesce amore Dai proviamo Aspetta che Comunque non ti si può guardare Te con il muso Sporco di cioccolato Vabbè dai Si scanta Si scanta Vuol dire che Che cosa Quella ombra Quella ombra è tua È tonto Diego Ma che tonno che sei Vediamo se Diego Riuscirà a staccare il dentino Riuscirà a staccare il dentino A Chiara Ti vuol dire che lo mangi Stacca lui Stacca lui invece Perché noi ci siamo più grandi No devi prendere proprio Con le tue dentine Con le tue dentine Provaci dai E poi dopo Proviamo A Ok Allora A A I O U Dai Ma è Ma prima la devo muovere Ah Perché lui non l'ha mai toccato Perché ha un pozzo di paura Vero mamma? Si No 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 Vuoi che lo toglio Che lo toglio? Che lo tolgo Tolgo Ci siamo tolti il dente alle 3 di notte Col buio fuori Perché è tutto No ma ragazzi solo per vivi che è completamente buio fuori, cioè non abbiamo neanche acceso la luce, stavamo guardando Don Matteo, Chiara sembra un film horror, papà sta dormendo, non si sente più, se no papà qua ti andrà in sua fossa stile, abbiamo tutti i gizzeroni, mamma ti immagini che, facciamo fare anche un video, prendiamo il film con il retale, stacchiamo la porta, invece di staccare i denti, si stacca la porta, ci sono con tutta la proposta, 3, 2, 1, dai, io te lo metto a casa, e si perché mi fa senso, difatti pure sporco perché non riesci neanche più a lavartelo bene, devi provarlo a girare, a girarlo così, così, si, prova, in tutti e due modi, prova soltanto, tanto che sembra, bravo, ma tanto sono i miei amici, ma vuoi fare, sai chi vaga, il topolino, no, paga la befana, mamma, vuoi provare tu, allora, dico, tu c'è un po' per un attimo, perché tu mamma, ho visto che con la telecamera non ci sai fare, aspetta, provo io, provo io, provo io di nuovo, hai sentito il rumore? hai sentito il rumore? è un po' che è, però non è ancora ora, quindi, domani con la seconda parte, l'ultima, te lo tocco, ah, e ci rivedremo di nuovo qui, di piena notte, ecco, ecco, dai, dai, l'ultima, e poi ci mettiamo a dormire, e lo staccheremo domani sera, vabbè, buonanotte, ti sento il sangue, ragazzi, mi sta uscendo il sangue, vabbè, dai, ci vediamo domani con un prossimo pittorio, vabbè, ci mettiamo domani, domani, quando ritorniamo da ancora, riproveremo di nuovo, sto caro, sentita, Chiara, uh, che sangue, di sanguata, eh, va bene, dai, già me l'hai detto, a domani, così non do, no, finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia, lo potrai acquistare anche nel link in descrizione, cosa aspetti? la notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie, e soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo il nostro poster autografato, ragazzi, come vi abbiamo anticipato ieri sera, Chiara è lì lì quasi per taccare il dente, e ovviamente, rendetevi conto che è un canino, sì, un attimo, un attimo, aspetta, aspetta, vabbè, ragazzi, vediamo se effettivamente ce la fa, allora, tre, due, ah, ma siete curiosi, eh, vabbè, uno, allora, Chiara ti si sta muovendo? dai, tre, due, uno, no, 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 Chiara, no, aspettate, no, ma perché sta, ragazzi, non pensavo che con una, fammi vedere, ma che ha fatto male? sì, allora, sciacqua, fammi vedere, il dente, Chiara, Chiara amore, fammi vedere, ah, apri, guardate un po', è pieno di sangue, Chiara, sì, lasciamolo qui un attimo, rilassati, no, ragazzi, non pensevamo mai più, che Chiara diceva, mamma, guarda che mi devi fare il video, perché si sta per staccare, mi ha detto, ma figurati, mi dici, sì, sì, altra è lo stacco, me lo fai vedere, Chiara? Continua ovviamente a sputtare ancora un po' sangue, mamma mia, mamma, io voglio, sì, vabbè, la fattina stasera, allora, fammi un po' vedere, il buco, vuole io vedere, asetta, fammi un po' vedere, ah, guarda, forza miseria, ah, 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 fammi vedere se ti stai ancora uscendo sangue, cioè, Chiara, ti sei staccato un dente da sola, ma ti rendi conto? Allora, ragazzi, ora, Chiara sta ovviamente, no, ma che strano, sentire un dente, ma non piangere ora, allora, Diego, il prossimo, che vedremo in un video, sarà il tuo, stai fermo, ragazzi, vedete questo dentino, di Diego, ovviamente, scriveteci sotto nei commenti, se volete vedere, anche quando Diego, staccherà il suo, vero, Chiara? Ma, glielo facciamo vedere, ai nostri amici, anche Diego, che si stacca il dentino? Cioè, ragazzi, eh, qua era pulito, eh, comunque, solo per dirvelo, dimenticavo, l'avevate già visto, questo bagno piccolino? Non lo so, Diego, piano, eh, non mi fate male, allora, amici, facciamo una cosa, ho un evitare di farlo cadere, io adesso, mi metto, glielo lavo un pochettino, eccolo qua, era qualche giorno, che faceva fatica a lavarsi i denti, perché aveva paura, di staccarlo, alla fine, da stasera, riprenderà, a lavarsi bene i denti, finalmente, abbiamo fatto, a togliere questo, dentino, perché dovete sapere, che Chiara è da circa, un anno e mezzo, che continua a perdere i denti, come tutti i bimbi, della sua età, questo era il nono, dentino, che stava, per cadere, a Chiara, amore, il dentino è là, però, mi raccomando, non farlo cadere, guarda che se no, non viene la fatina, ovviamente, amici, io, vi chiedo, una cosa, scrivete qua sotto, nei commenti, se volete, vedere, il dentino, di Diego, che si sta per staccare, allora, vieni qua, Chiara, fammi vedere bene, fai, apri bene 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 la bocca, e, guarda che bucone, che hai ora, quindi, come vi avevo detto, scrivetemi qua sotto, nei commenti, se volete, che Diego, si stacchi, anche lui, il dentino, con la vostra presenza, quindi, lasciatemolo nei commenti, e nulla, la bambina, strinse i pugni, e poi, fece segno, di no con la te, ah, e chi è ora, Lucia, ciao Lucia, si, no, no, tranquilla, non disturbi affatto, no, 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 ah, cosa stavo facendo, eh, indovina, aspetta un attimo Lucia, oh, dimmi, si, mi raccomando, non rompere niente, e non fare casino, ok, no, aspetta, se io te lo dico, però tu, mi prometti, che non ti metti a ridere, ok, stavo leggendo, il libro, di mamma Giulia, figlia Chiara, si, cosa, ti è arrivato anche a te, stamattina, cioè, stai leggendo, il nostro libro, no, vabbè, fai una cosa, e, leggilo, e poi mi fai sapere, che cosa ne pensi, perché io sono più o meno, a metà, sì, vabbè, Lucia, sono occupata, dai, ci sentiamo dopo, ciao, 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 ragazzi, Lucia, è arrivato proprio oggi, il libro, di mamma Giulia, figlia Chiara, io ho intenzione, di darvi un piccolo anticipo, ma non, ovviamente ora, te lo darò più tardi, in più, se non l'avessi ancora fatto, vai a acquistare il nostro libro, su Amazon, nel link in descrizione, vabbè, dai Chiara, facciola, Chiara e Diego, continuano a giocare a palle in casa, io non ho parole, ragazzi Diego, mamma, tutti noi possiamo giocare, ok, ma papà, quella lì non imbassa, Montilano, fa lo stesso, vabbè, tu vai io di sotto, io vado su di sotto, lanciamela, te, ragazzi, Chiara è andata giù di sotto da sola, è giù di sotto, ci sono le mostre, Diego, cosa stai dicendo, cosa c'era giù di sotto, ci vuoi te, ci vuoi te, vabbè, stavo scherzano, vabbè, vado giù di sotto, ma non farei più scherzi, scherzi, ok, signorino, eh, ti controllo, vai, ci sono, sono pronta, Chiara, prende la sinizia, no, Diego, ora ti lo tiro io, eh, eh, no, aspetta, il quadro, mannaggia a te, è andata sotto nelle scale, ma dov'è la palla, a, oh, ah, ah, un'aria, il radio, il radio, Diego, finalmente è uscito il nostro primo libro, la notte dei sogni, lo potete ordinare su Amazon, nel link in descrizione, e soprattutto, se ordinerai il libro ora, avrai una super sorpresa a casa tua, il poster con tutti gli autografi nostri, cosa aspetti? Diego, non mi pare che stai facendo, come va la palla? Mamma, c'è un ragno, Diego, guarda, è tutto rosso, Diego, Diego, ma appunto è un ragno? Sta zitta, se ci scopri la mamma, sono guai, mi fa troppo raggi, Diego, mi dà lì, viene anche a te di rispetto, ma ragazzi, è normale che sono così rossa, Diego, è normale che sono così rossa, aiuto, non è caldo, Dove stanno andando di corsa? Solo loro sanno, va, si acquattarono tra i cespugli, e videro qualcosa a muoversi, nel cielo scuro, una sagoma che planava, rapida, rischiava, soltanto, ma cosa stanno facendo? Andiamo a controllare, bimbi, bimbi, è un'ora che vi sto chiamando, che cosa state combinando? Finalmente, è uscito il nostro libro, in tutte le librerie d'Italia, lo potrai acquistare, anche nel link in descrizione, cosa aspetti? La notte dei sogni, ti aspetta, in tutte le librerie, e soprattutto, non dimenticare, che avrai un super regalo, il nostro poster autografato, e dove state mettendo le mani? bimbi, bimbi, e scusate un attimo, quello è il cassetto dei medicinali, che cosa state combinando? Niente mamma, scusate oggi, ecco, cambino, dai, dove state andando, che cosa avete preso? Andate in bagno, com'è il bagno? Ma qui non è il bagno? E no, dove l'hai? E qui è venuto in bagno? Ciao, mi scappa? Ciao! Siamo, che davvero piccantile, ciao! Devo essere in bagno, mi scappa. Mi servirà il solello, perché si vuole. No, è questa, è una specie di crema, quindi, che sonno che ho, chiara, perché tu continui a sbagliare? Perché sono stanchissima, me ne andrò a mettere sul divano, ma prima, devo far asciugare un minuto, per non farmi male, cioè, che mi fai non sentire dolore. Ma tu te ne vai a dormire? No, ma tu te ne vai a dormire? Sei stanca? Sì, che sonno. Chiara, che cosa dico la mamma? Come il suo solito dom. Va bene, mi ne vado di me. Buonanotte. Diego, 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 Occhio, che cosa, dai Diego sarà una stupida, dai Diego sarà una stupida, avrò preso l'influenza, non riesco a cambiare Diego, che cosa fai, non ti rendi conto, ragazzi, Diego, guardate, e se mi vede così la mamma? Diego, devo chiedere aiuto alla mamma, ti aiuto io, Chiara, ok, grazie, ma aiuto la mamma, Chiara, per cosa, Chiara, ma che cosa hai in faccia, Chiara, no, Chiara, Chiara, mamma mia, Chiara, mamma mia, mi facevi pure cadere, Chiara, 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 allora, Chiara, è svenuta, è svenuta, Chiara, mamma mia, che fatica, Chiara, Chiara, vabbè, è stacca la telecamera, è svenuta la bambina, stacca, allora, Chiara, mi dici che cosa è successo? Allora, praticamente, Chiara, cosa ti sta uscendo dalle braccia? Chiara, che cos'è? No, Chiara, sono delle ragnatele, Chiara, che cosa è successo? Chiara, chiara, ti stanno continuando a uscire? Altre ragnatele, allora, allora, ti spiego cosa è successo, io Diego, stavo giocando a palla, si, su, giù, su, giù, sai quel gioco? Ah, bravo, sei arrivato anche tu, vieni che così mi lo raccontate, sai quel gioco, sai quel gioco che fa su e giù con la palla? No, io non c'eri, come non c'eri? No, ero su di sopra, lo stavo spespando, cioè tu c'eri a giocare a palla o no? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì la palla sotto sotto dov'è? sotto le scale e io... e cosa c'entra le ragnatele che stai consumando? fammi spiegare io per andarla a prendere la stavo prendendo ma è morto un ragno mi sa che era velenoso era nero io sono ridata piangendo hai visto perché mi sono messa l'acqua soggi... l'acqua come si dice? chiara acqua ossigenata ma tu forse non hai ancora capito chiara che il problema è che puoi rischiare di morire se un ragno è velenoso è velenoso e ti ha morsicato mi fai vedere la puntura? qua? cioè ma questo? mamma non c'è da scherzare devo portarti subito all'ospedale dai vieni andiamo chiara cosa ragazzi niente no per favore basta 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 non c'è più da riprendere ragazzi a dopo si salve si ok va bene va bene vi aspetto vi aspetto ok diego e anche amici da casa sta arrivando l'ambulanza per portare via chiara e e nulla certo che vengo anche io in ambulanza tu sei capace di rimanere da solo con papi? vengo io con te ragazzi vi faremo sapere che cosa è successo nei prossimi episodi e spero che questa situazione si risolva mi raccomando se succede qualcosa all'interno della casa ditelo sempre a mamma e papà o qualcuno che è vicino a voi mi raccomando no non mi interessa me lo dovevi dire adesso la situazione è più grave di quello che io penso vabbè ci vediamo domani in un prossimo video ciao ciao non te ne pentirai questa vita folle spericolata e tutta la casa diventa una festa con te che corri via così scamanata destra e sinistra mi gira la testa e sempre sempre da soli ma ma